E' appena uscito dalla doccia e siamo con Michele Donnoli, punto di diamante del Casteldagno, che ringraziamo per la sua cortesia. Michele, dopo un primo tempo ha giocato alla Pari, una ripresa con minore intensità atletica e agonistica. Certo, loro dietro ci hanno creduto, non hanno mollato mai un pallone e i risultati poi sono stati positivi per loro. Noi ci abbiamo messo a tuta, ma sono stati molto grintosi loro. La strada per la salvezza adesso si complica un po'. Eravamo a tre punti nella zona play-off, adesso siamo un attimino distaccati e speriamo un attimino di riprenderci. La forza della squadra c'è, un attimino di impegno in più e secondo me i risultati verranno. Siamo con Marco Varani, capitano bianco-blu, che porta ancora i segni della battaglia. Marco ha una gara, direi, con un risultato ineccepibile. Ma penso che abbiamo giocato contro un'ottima squadra, un buon risultato e mancano 12 punti per raggiungere la salvezza e basta. Parlate solo di salvezza o già un pensierino a qualche cosa di più lo state facendo? Ma no, penso che il minimo che dobbiamo raggiungere è la salvezza nel più presto possibile.